Primo nastro, Top Quark, Solentu Frente, Ora Pronobis, Unikos, Trotto, Lasko in prima fila. Seconda fila per Tancredi Oro, Trin del Circeo, Shelford Run, Umbi e anche il Madiba J-Bay a 20 metri. Odeon degli Dei, Urra Griff, Riviera e Ugo Per. Convalidato il secondo segnale. Sbaglia e viene squalificato solo in Trufente, coglie avvio volante Shelford Run che dalla seconda fila cerca di scavalcare ora Pronobis. Vi riesce, terza posizione per anche il Madiba J-Bay mentre sbaglia Trin del Circeo, la quarta posizione, ora c'è l'errore anche per ora Pronobis. E allora è chiaro il vantaggio di Shelford Run nei confronti di anche il Madiba J-Bay. Top quark in terza posizione, poi ora Pronobis rimesso in quarta davanti a Trotto, Lasko, Tancredi Oro. Odeon degli Dei il più veloce tra i penalizzati, a precedere Ugo Per all'esterno, Urra Griff e Umbi. E' buono il ritmo imposto alla corsa da anche il Madiba J-Bay che ha rilevato il comando da Shelford Run. 45-8 i 600 iniziali con partenza da fermo. Anche il Madiba J-Bay che si presenta al comando davanti alle tribune. Completa il mezzo miglio iniziale in 1-2-4. Si viaggia dunque sul piede dell'1-18. All'esterno si impegna Tancredi Oro, trascinandosi Odeon degli Dei. In corda Shelford Run, poi Top quark. All'esterno Urra Griff, ancora Trotto, Lasko e Umbi. Siamo all'apice della penultima curva con anche il Madiba J-Bay che continua a comandare. In seguito all'esterno da Tancredi Oro. In corda Shelford Run, in seconda pariglia in posizione ottimale a Odeon degli Dei. Quindi Top quark affiancato da Urra Griff, ancora Umbi che recupera scavalcando Trotto, Lasko. Siamo al paletto dei 600 finali. Con anche il Madiba J-Bay che reagisce ancora bene a Tancredi Oro. Temporeggio nella scena di quest'ultimo Odeon degli Dei, ma ora scatta in terza ruota. Quando siamo al compimento del miglio in 2-2-7. L'errore però per Odeon degli Dei, sostituito nell'azione da Urra Griff che prova ad avanzare all'esterno. Sgetta di galoppo anche Tancredi Oro. Destra libera per Shelford Run, dietro anche il Madiba J-Bay a centropista Urra Griff. Per l'interno è Top quark, guadagna di dentro anche Trotto Lasko. Anche il Madiba J-Bay ancora in vantaggio. Sta muovendo con decisione all'esterno Urra Griff che va all'inseguimento. Ma anche il Madiba J-Bay è imprendibile. Vince su Urra Griff. Con al terzo posto Trotto Lasko che si è liberata per l'ire interna. Andiamo a vedere le immagini per completare l'ordine d'arrivo. Nel frattempo 2-34 scarso per anche il Madiba J-Bay. E Mario Manzone, media dunque di 1-16-9-1-17. Per anche il Madiba J-Bay che elude la rincorsa di Urra Griff. Al terzo posto Trotto Lasko. 10-12-5. Il quartè completato da Shelford Run, 10-12-5-8. Il quartè vede Top quark. Tantissimi outsider al traguardo. Il quartè vede Top quark.